Neve vera sull'isola, neve artificiale nelle località turistiche del nord Italia. Accade anche questo in coda all'anno che va via, ma non riusciamo a sfruttare appieno questo evento meteorologico favorevole. Nonostante l'Etna offra ottime piste da sci, arrivare alla stazione di Piano Provenzana oggi è stato un vero problema, per via del ghiaccio sulla strada Mareneve. Nonostante la sede stradale sia stata spazzata dall'unico mezzo spalaneve disponibile, sull'asfalto è rimasto uno strato di ghiaccio, che non è stato possibile rimuovere perché la Publi Servizi non è in possesso del sale antigelo. Una situazione paradossale, visto che l'ondata di freddo polare era stata annunciata in largo anticipo. Proprio stamani, peraltro, la star a Piano Provenzana ha aperto anche lo ski lift di Monte Conca. Le immagini si riferiscono proprio alle piste di Etna Nord. In pratica, a lingua glossa, per la gioia degli sciatori e degli snowboardisti, sono così aperti ben quattro impianti, la seggiovia e tre ski lift, coccinelle, anfiteatro e per l'appunto Monte Conca, per un fine anno sulla neve da favola.